di patrick zaki verità per Giulia Reggio verità per Giulia Reggio niente, per te ho depenso basta fare quel ballon scusate ci sono queste persone, scusate ti sono e non ti sono tendi della guerra, il mare dell'aria non di tenere della rivoluzione non è vera che è ma adesso è aera, non è la mia paura e hai gli occhiali ma oggi è sabato nel suo mare non ci va a bola sai cosa faranno le donne sabba cosa faranno le due compagnette ecco il bagno del mono perché l'impiegato sottopagato non ha voglia di pulirlo sempre il il bangladino il tizio minchia zobba mi manca king che gli manca anche a gianluca mi sono ubriacata davanti al bangla mi sono rimasta tipo tutta la notte sdraiata lì davanti sud a terra gianluca non vedo la reddita che ti trova il giletto di zobba ma care mamma mia bocco di aprile perché c'è una mamma bocco di aprile perché c'è una mamma porco il pedaglio di biologare lei magari vive da una parte detto papà allora mi sa che non lo fa dire perché ho perso su fornit hai capito facendo stava stava facendo i massaggi con uno spazzolino ai denti alla ma perché non si genera le importate matteo è importante quando vedi ai lama tutti abbassi la pellicina delle perché c'è la sbrugna sotto bene e la Entra la mamma e fa tipo epico madre spastica La mafia, la mafia, la mafia Devi ridare, devi ridare Matteo ma secondo me tu sei un abbo Ma che è la Red Kid 9 Rider? Almeno che mi mette pronto un pro player Ma ti dirò Io non ci scrivo su Fortnite Il mio membro è di 5 cm e nevato si era E' pronto o ha la mamma troia? No, è pronto Gabriele è pronto Gabriele è pronto Amaronna, ruciruci, pezzi in me da quello che è te Si vede che sei il consentimento Portiamo a giocare che è mezz'ora e siamo in lobby? Matteo, sei così Matteo, ma dove vai chi è biondo? Ma basta Ma basta Basta Berlusconi, basta Basta con i Luther però Bastardi Sono un assassino di mezz'io Mi scopo la figa Mi apro l'esterno e mi cado nel cuore Perché tre i Luther? Bastardi Chiamo da reggio Emilia Lo potete proprio bloccare? Chi lo blocca è un pro player Cioè, bloccato e basta La morte La morte La morte Il cancro La leucemia I bambini morti I bambini morti Il cancro La leucemia I carabbi merda morti Ma si riunisce Gli statali morti Le te calvette e io Sei statale? No Fortunatamente Sfortunatamente Non ho questa fortuna Io voglio essere uno statale Perché stanno Bene ragazzi Mi hai immagino Ragazzi così Bella raccomandazione Vai doppio dito Doppio dito Doppio dito Doppio dito Spaglio di pizzeria Sei morto Infante Ma che cazzo Ma chi sono queste persone? Scusate Sono tutti i miei amici Che siccome è messo pubblico Ciao a tutti Oh bambini Mettete il gruppo privato? No Lo teniamo pubblico Lo teniamo pubblico Ma adesso C'è sto gli amici Mettilo pubblico Ma Gabriele Perché tu Sto camminando in avanti E poi sei fermo? Ormai possediamo Un asilo nido Asilo nido dolci coccole Ragazzi Sto pure Sto pure Gabriele non devi scrivere No Gabriele non puoi essere un pugno Non mi rimordi Mi fa so Gabrile Dove sta il caperno? Maaa Io non mi faceva rire Maaa Io non mi faceva rire Io non mi faceva rire Ma almeno andiamo in partita Stano Eh perché mi stanno Ti ne hanno Ehi Eh perché Vedi solo Al convagliato Vedi solo Al convagliato A posto Scheda non c'è Non c'è Scheda Pazzo Basta Ci vediamo Al chiosco Di San Cristoforo Va bene Suono A con magnano Ma Matteo A te piace Il sesso Il muone sale Il muone sale Il sesso Il muone sale No Il mandarinetto No Verde Come no No Su Come Mi sta sbagliando Questa Che Ti dobbiamo Un'altra possibilità Ti piace Il mandarinetto Sì Ah bravo Matteo Matteo ma secondo te I chioscari Devono Devono proporla A un euro Alla tassa fissa Un euro Oppure di più Quello dei pokemon Fedrick 95 Ciao Fedrick Bella Fra Mi senti Fra Fedrick Io non voglio Essere qua Mezz'ora Quanti compiti Mi piangono Buttana La misera Mi chiederò Gabriele Ce l'ho anche Col ballo Mi chiamo Ma sei un bullo Matteo Matteo Ma a scuola Sei bullo O bullizzato Ce l'hai la fidanzatina Matteo E nessuno di due E neanche la terza E il cocco della maestra Vivi senza femmine Le femmine portano solo guai Lo schifo Matteo Le femmine il sabato sera Sai cosa fanno? Ma non glielo dire Ancora è presto Io Ma tu No No Ho fondazione Mai Allora Più tardi Apri il telefono O il computer E cerchi C'è nexx Punto com No 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 Minchia Giulia sei il molto vecchio stampo tu Ma Giugia Ma sta indietro L'avevo già cercato una volta E il suo modo Sì sì L'uomo 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 Che non me la devi dire No Matteo Ami il cellulare Vai su Telegram E cerca di pre-instit per scelta Guarda Un'uomo E non c'è nemmeno Telegram Ciao Che telefono è Matteo C'è il contatto Power 30 U C'è Power 30 No Power U 30 Che telefono hai? Che sono il mio telefono Matteo So il tuo indirizzo IP So dove ti trovi Dove abito? Secondo me sei di Milano Secondo me sei di Milano C'è tutto È divino una casa amorevole Amorevole ai tuoi genitori Matteo io so una cosa di te La tua passione Non è questo La stanchezza Io so che i tuoi genitori ti vogliono molto bene Giusto No non mi hanno compato una play 5 o 2 mili La mamma mi ha detto che il suo figlio preferito è tua sorella Eh? Il tuo mamma mi ha detto che il tuo figlio preferito è sua sorella Non è che la conosci mia mamma Come si chiama? Ah Si chiama Mamma Con un bel nome Con un silenzio che ti parla No mi dici il nome è preciso Giulia Il nome? Il nome è Il nome è È il cognome di Totti Che tutti quanti sappiamo essere Il nome è redatto No Posso farlo col nome? Il nome è minchia Il nome è minchia Ma quindi studi arabo? No faccia rossa Il nome è furno Il nome è 중요ato È l'uomo di Totti So lino russo però Changa Dio E penso Matteo, ma tu che guardi su YouTube? Sì Gabriele Petro, guarda a me su YouTube, su TikTok Iscriviti a CiccioGamer89 Gianluca, ma tu in Russia li uccideresti Molchardamà? Tu immagina se devi uccidere Molchardamà? Giochiamo però Sì, io devo giocare tantissimo Questa è una canzone che mi piace molto Quanto vuoi fare? Tu ti è un legico Tu ti forani come l'uomo del neolipico Nella tua cabbia due per tre Mettiti comodo Intellettuali nei caffè Ah, vuoi fare quel pacco? Quella cacchio di canzone? Ok, te la metto Questa Me too, così Quella che fa sto papà che girava Ce l'ho io il ballo Ce l'ho la canzone Sì, vai Matteo Oh Vai vai Facciamo ora Vai Veroci Veroci Ma devi mettere privato Sennò entra sempre Mettilo privato Mettilo privato Mingga Vai a riavviare il modem Mettilo privato Veloce Mettilo privato Veloce Metti Metti squadra Porco Dio Porco Dio Matteo 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 vai vicino alla televisione E' qui c'è andato C'è andato C'è andato Ma mettete privato sto gruppo Metti privato Va bene Lo vuole mettere Non pesce furbo Metti privato Metti privato Guardi che abbiamo abbandonato Una persona Possiamo fare Squadre Facciamo squadre Ok 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 Ma dov'è Leonardo Siamo autoespulso Ecco Siamo autoespulso Ma che messo Sono amici Per questo Vabbè Matteo Non abbanno Ma li ho già fatti Non ti vuole nessuno Matteo Non ti compito Non ti compito Le ho già fatti Ieri si è studiato Che inatte Vai Andiamo A buttare La vado A diventare Non ti vuole entrare Matti ho detto Matteo 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 Non ti ha abbandonato Matteo Non ti ha abbandonato Non ti vuole bene Matteo Non ti vuole bene Non ti vuole bene Non ti vuole bene Matteo Non è vero Perché ho scopato 8000 euro Ma ammetto papà Ma ammetto papà Fanno sesso Ogni notte Nel loro letto Nooo Nooo No perché sono separati Nooo Nooo Io se dovesse avere un figlio E inizio a giocare a fortuna E te lo prendo a pugni Direttamente tramite fortuna Mi è passata qualsiasi voglia di fare un figlio Sì 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 Puoi provare Momentate Eternate Poi mandagliere foto Gianluca Non ti fai perso niente Mica mi ha mandato la ricassa dell'amicizia Ma vai 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 Io l'ho accettato Io l'ho accettato Io l'ho accettato Sia sera Dovrei giocare con Sam Ve lo immaginate se entra Ma vedi che io ne ho un sacco di amici così eh Se vuoi li posso invitare tutti in una volta Gabriele ma tu devi chiedere l'età Se hanno meno di 16 anni Allora ci sembra che sono piccolo Si sembra E andiamo a Kiev Vai Parata triomfale a Kiev Kyiv 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 die Chi è Tinnato dipendenti Si Perdiamoci No Siamo scendendo a Kiev gatti ma tu cosa ne pensi della rusti kiev che è la storia rete dalla terza guerra mondiale la rusti kiev gabby no ogni volta che vedo questo qua sembra che la fidu di male abbandonato e cresciuto il nuovo matteo forse ha perso la connessione no secondo me matteo l'ha invitato che c'è andato sbaglio ora li manda un passaggio e che lasciato stava scendendo c'è il suo nome ora cresce minchia mi servono a tutti a tutti servono qua siamo sulla vita reale fortnite vita vera vita vissuta soprattutto siamo noi tra poco e calo fiduti ma tutti i spacchi di pinza reale della scuola la fa vera suglio io non ci vado più che è il gianluca e presto che spara il spacchio fai internet o logi poi il tuo cuore c'è un malattia risposta tutto gli scrivo torniamo alla notte il frizzo aiuto aiuto o non passiamo niente mi dispiace no no mi serviva un po di coronavirus io ce l'ho ne vuoi sì quando quando lo fai 10 euro starnuto il primo è gratis però no ho rimborso non si non mi vuoi curare per luca ma che fai internet o lecce minuti per favore dalla finestra bravo ora morite come come sono quattro libri che non funziona non è proprio un bullismo viene da vomitare non vuoi dare con donne che ti serve ne ha due andatemi a rianimare voglio risuscitare internet o logi ora viene ludovico a casa mia quello la che dura degli altri quella che dicevano con marco il condorello pera spara i ti prendi un bel caffè internet o logi ma stanno sparando mosche aiutate ma voglia stasera di andare in viaggio e mellare che tu non hai idea porto c'è pacchi c'è pacchi però stasera sono a casa susscino la canzone sei che non è che tempo disco scopaggio se sarò sarà sabato se sei se sei anzi mi dispiace che tu non possa farlo e vabbè c'è su specchio bisogna sesso io il pazzo pazzo lo squalo aiuto il pazzo che cazzo vuole c'è il pazzo sto maledetto scuola mini ho smed quindi se ne ottene il signor per se sarà a kira marina c'è lo squalo e te l'ho detto voleva prima quindi di amico quindi a lei c'è pacchio sono tutti tutti sono divertendo sono morta ma c'è un paragrafo però gabriel siamo tutti i due di tutto ogni volta metto ai meme che mi vuole fare esplodere che questo sarà l'ultimo perché poi mi devo provare no tendo che c'è lo spazio di avviene si è iniziato viene alle 6 mi devo fare la doccia si deve fare per un profumato se lo se lo fighi suggerisce anche biglietta chiede bestiale bestiale a 7 7 fammi finire poi gasparano faccio da come amico adesso ho visti ci rubiamo culo ora ci butto la squadra vado ci vado con lo stuolo ce l'abbiamo amico lo spavolo deve mangiato lo guarda posso anche ballare guarda qui ah oh io ho unito lo sporo dell'apprenditura c'è presa due quindi ce ne saranno sicure altri due perché c'è un luco squalo c'è lupo squalo si chiama lupo squalo si chiama questo non è sempre lo squalo ci ha asciugato la minchia vai di io mi dico io ti sento manco c'è la e la cosa e lo squalo non può fare figli io ci sono vabbè ora dipende bf fatti fatti in provincia di messina gabri leonardo ha detto ma ma stiamo vincendo il numero 26 che dobbiamo fare invito l'apprenditura dopo ti voglio una corona bravo spalla ammazzalo ti devo curare ok camion camion qua nemici qui guarda quando spike il cilineo c'era pure la corona per te bravo oh fanguno muori scafazzato qui ti aspira povere aspira povere gigante guarda ma come si merita il video di scafazzato e la scuola è la spira polvere gigante questa qua aspira i bambini quando tipo non gli vuoi poter dispare ma c'è una corona la sotto per usi aspetta che faccio di stare qui ce n'è altro aspetta che vaffanculo torniamo a l'ottima io vado a fare bling bling mi manca Matteo ah sono arrivata a livello 90 ho sbloccato tutto senza aver fatto un cazzo grazie ma chi è ma mi ha dato delle ricompense io ho sbloccato tutto mi ha dato 100 V-Bucks io ho 400 V-Bucks in Russia sarei milionario sono un oligarcho in Russia quando finisce la stagione? ah il 19 marzo vai e poi c'è l'altra ecco ho fatto la bling bling ah no aspetta aspetta invito a Matteo no basta Matteo no no Matteo non c'è Leonardo ancora V-G-F-K vedi all'amico se non ricordi è superi che ce l'avevi tanto da un po' come amico Gianluca invita la fisi vabbè Gianluca metti pronto Leonardo non c'è ancora non c'è mai poi riusciamo aspetta con l'invincenzo non c'è mai poi che ci accorre non c'è mai perchè te li stanno dicendo Giulia chi cosa mi stanno dicendo no non li sento che non lo capisco ma mi so così bene e così bene sono unolr vabbè no, non lo capisco ho parlato, cioè almeno non così bene vabbè, ci siete? si, si mi hai finalmente messo due foto, bravo, io sto messendo la migliaia vai, pinnacoli ma la gang è c'è, questa foto è quale mi chiede, mi hai messo squadre o? no, non c'è, non c'è, Matteo, non è messo terzetto? no, vabbè, va bene, non si mette in automatico di solito no donna individuata, opinione rifiutata io se la madre di Matteo è stato preso, il microfono, le cuffie, le cuffie, queste volte proprio non so parlarti wow, carosi, sono morta, venite a prendermi la mia, venite a prendere la mia scheda si muore una volta sola, guarda che qualche figlio di droi ha trovato prendete la mia scheda aspetta che prendo la scheda telefonica sto cercando di venire, vediamo fighi su che minchi presto apposta ce l'ha spaccato il culo? per lì il culo? vieni qua, c'è Luca, vieni, vieni, che ti potenzio aspetta aspetta vabbè siamo potenti per spesso ti sei preso l'adrenalina vai cacciatore, vieni qua, fai la nostra squadra, vai fai quattro tiri a il giocatore della patria aspetta che c'è un giocatore in panchina c'è un giocatore in panchina, quindi devo aiutarlo ok, salviamo i giocatori in panchina certo vai, Luca, io sto richiedendo l'autobus il biglietto sto prendendo ah, riavviene il gosso, vuoi un'arma? grazie che cazzo? chi è che spara? da lì a sto bimbo ti ho lasciato un'arma, è per terra arrivo mi chiamasano proprio sono a trittura sono in fuoco infuocato che cazzo? mamma mia si sta rovesciando qualcuno venitevi tuzze mamma mia l'ha contagiato da giallo che me l'ha contagiato dimmi vi shy pomodori, zucchine, insalate venite zucchine? chi fa chiusi? mi regalo ma la polizia è arrivata la polizia è arrivata la polizia è arrivata qua 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 basta da me donne è entrato io no, andiamo in lobby andiamo la torniamo in lobby ma perché dopo che stiamo facendo un sacco di kill no no, andiamo in lobby mi sta trovando i lotti? donne, è arrivato al lato dico la nota cortellina nel frattempo mi stavano parati a rari l'account si era Matteo con su mamma era Matteo per via dire era Matteo con su mamma si si sono entrati nell'account infatti per vedere chi è questo è divertente io che a Paratic Games mi chiamo Marzio perché era un account vecchio che avevo creato è Marzio, ok oh mettete pronto se è pronto a tavola gli italiani brava gente è vero gli italiani non commettono i primi di guerra siccome c'è caldo mi tolgo la maglietta guarda guardami guardami stai imprendendo con la lava esatto questa sembra la cosa di John Cena quando fa il saluto nella mano qua la faccia il suo nome è Giovanni Cena ragazzi il suo nome è Giovanni Giorgio Giovanni Giorgio Giovanni Giorgio everybody called me si chiudi questa spada la bocchetta dalla pizze tutto 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 è stato molto divertente giocare potesse stare con un bambino di 9 anni ma ne ho altri amici così ce ne sono altri mi stavo sentendo chi è se vuoi mi posso invitare tutti scendevo nel cortiletto a giocare a palo a giocare a fortnight nel 2013 sì cioè andavo in prima media io andavo in terza media quinta elementare sì 2013 in terza media first make down 2016 capito io andavo in terza media mamma mia io ora non vado a nessuna scuola vado a nessuna scuola io ce l'ho pure in c'è chat c'è chi è bergine a diego sia da lì a talia da lì ma mi spavano già ho fatto un solo mi volevo buttata alla finestra e questi mi ammazzano ti devi mangiare la minestra la maestra che so ammazzano bravo sta banale rianimati ragazzi la la guerra mondiale siamo noi gli assassinatori lei che non lo sa nessuno gli assassinatori gli disegniamo i tassi e manco ci vedano ma gtiare più io l'ho già gittiato finischie io oggi ti hanno non lo so ce l'ho ce l'ho in americano come e ma che la lingua da cambiare no non posso attenzione che c'è qualcuno sento rumori mi ha zitto è la scheda sopra il palazzo americano mezzo mezzo americano aspetta quante aiuta amiche e poi in alto in alto e trova nel tetto proprio nel tetto ah l'ho presa io vado io vado io vado io attento sta riavviando il suo bombagno da scuola sta piccando l'auto ammazzo dove vai sta girando vai vai fa troppo vai così non fa più i bombi non fa più i bombi ah fai attenzione ah 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 Mi dispiace, doveva andare così il fratello Prendi la scheda Questa è la scheda dell'interno La cartuccia Oh, ma è piena chi è oggi Sì, stoturno pieno di rossi Io sono la pistoletta, che schifo Oh, ma ce la fai ammirare Sì, quando devo... Oh, ho tutto Grazie a giorno Ragazzi Vabbè mi sto curando L'ho fatto il medikit No, non volevi il profumo puzzolende, no? Questo lo chiamo profumo puzzolende C'è Ah, se è Gabriele Eh? Dopo ci vuole Guarda la minam Guarda la minam Con la mappa 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 Lo sapevi? Aspetta, distruggi Guarda Basta, basta, guarda Avvicinerò Guarda, è sicura, hai visto? Lo sapevi? No, io l'ho scoperto No, io l'ho scoperto Solo quando ti giocato Non ho fatto scoperto Eh... Eh... Così? Dove andiamo? A fine Bisogna sparare Eh... Bisogna scopare Oppure io Con la di tiktok Io non posso Da... Due settimane fa Arance Io da ieri Io da due settimane fa Presso Mascali Ho fatto del sesso a Mascali Ma perché c'è a Mascali? Perché ero andata con Sam a Mascali Sì Ma c'è schifo Mascali Lo so, non c'era niente Non c'era niente Eravamo letteralmente disattaccati a Giarre Io domani sono a Giarre Che fai per fare a Giarre? Eh... Partita Ah? Partita Ah Finchia costano 3 ore... 3 ore e 40 cambia Giarre Oddio Un cazzo E' problema di arrivarci E' problema di arrivarci Non c'è niente Ma che è la vita di paese che costa di me? Mare ma... Ma non me lo aspettavo questo Fogolo Ma immagino essere... Ma che ora ci vuoi dire il totale o a testa? 3 ore e 40 a testa Però è comunque poco Mare Ma adesso ci sta perché di punto considera che ti sei tu Wow Sai la sei Ti chiedono 10 euro a testa Mare E' a 6 La testa a testa Letteralmente 10 euro Metti per 12 i cristiani Andiamo caroci Sì Vaga mi compro un apprezzamento di Tekken E ci faccio il campetto da calcio E' dove? E' comunque un investimento eh Chi è? Chi si spara? Vi gioco Devo usare tranquillamente il fucile a pompa Però va bene Io ho scoperto il fucile a pompa adesso No ho letteralmente due Spesso Chi è? Quando è goinge fatta YouTube 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 Faci lo starnuto Â photo YouTube Ma stai chiamati a주� nationale Con l'ha fatta Gabbri Che vuoi Mio padre sarà andato in pensione lo sai No, prendigli il posto Qua si gli danno i soldi a lui a te Dai, devi comprare la PS5 Ma dov'è c'è Luca? Dove sei tu? Ma singolo al mondo, io sono in seguito E siamo in safe Anch'io Un po' ho trovato banane, zucchine, pomarora Qua buttiamo giù tutti gli alberi Ah Sono i dronchi con il cioccolato Che non si fanno I stecchi, le stecchi di cioccolato Ma l'ho curata, c'è Luca? Ci spavate un po' di profumo Ma non so dov'è Gianluca E ne lo so, anch'io lo so cercando Dove caspite? E' da un'ora quello cerco No Anni Ehi Che è successo? niente lo faccio 3 2 1 no 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 io c'ho gli scudi li tipo tipo vuole da costruire guarda ha visto la posta inizia ma sono un bro ma stiamo passando casa abusiva se guardi ma carizzo ma che qua no minchia sono una cogliona sono una cogliona aiutate il compagno che ho perduto sbrigati perché noi iniziamo a costruire no no iniziamo a togliere tutto sotto sto schifo che abbiamo fatto io l'ho costruito che spara ancora possibile tutti i posti ma già siamo ancora fuori ma dove si entra che sono scivolata di nuovo ragazzi ma spostiamoci no brutto quello di liramo of the world port allora qua c'è un e la giunta facciamo stretti ragazzi se siamo fortunati forse ancora ancora la caverna non è presa no non penso non dormire macchina andiamo cagnolino bianco cagnolino bianco mi sta nascondendo le puttose ricordiamoci c'è boba cagnolino bianco cagnolino bianco nasso sta nascondendo anche mescolino 321 o venite o venite a vedere che c'è qua scala del passato c'è un bottello di lutti quindi ho preso l'mk d'oro e il cc il filetto e una pro te lo devo dire grazie bad no 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 io diamo le compagni mi hanno fattuto le cose mi hanno fattuto le cose fai che uomo ducco ci spai che auguro a stu povero figli o prendimi la scheda rende minata andatemi a curare sì un attimo che ci curiamo palle ho perso la cosa io c'ho la giampa se vogliamo scappare dall'acqua io posso già un pari vado a curare non un colo ma la mica eccola qua ma posso ma non è un bastardo no 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 mi prende tanto che spacchiare curati ma dov'è ma non lo vedo io ci servono indicazioni qua fate curare la mia amica grazie mi amo tutti camorno su mi aveva fatto tu gianluca ora di voto in volo aspetta vogliamo ti faccio ti faccio il bacino minchia mi hanno snagato ragazzi aspetta aspetta caccia l'uva serve me è un momento che non c'è l'uva metto profumo di me vittoria smorale siamo venuti praticamente giochiamo che fa ciao ciao ciao